Maria De Filippi Maria De Filippi, messaggio per Nadia Toffa a Tussi Cue Vales Tussi Cue Vales, il pensiero di Maria De Filippi per linviata delle Iene Nadia Toffa. La notizia del grave malore che ha colpito Nadia Toffa, linviata e conduttrice delle Iene ha scosso tutti, dal pubblico agli addetti ai lavori. Senza dimenticare i personaggi famosi, che in queste ore stanno pregando per la giornalista d'inchiesta. Per questo Maria De Filippi, durante la diretta della semifinale di Tussi Cue Vales, ha lanciato un messaggio d'auguri a Nadia. La moglie di Maurizio Costanzo, appena è riuscita a prendere la parola, ha fatto i suoi migliori auguri a Nadia. . Un gesto dolcissimo che ha subito riscosso l'applauso degli altri giurati, dei conduttori Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni, e di tutto il pubblico in studio. . . Cosa è successo a Nadia Toffa e come sta ora?. Nadia è stata colpita da un grave malore oggi pomeriggio, sabato 2 dicembre, mentre si trovava nella hall di un albergo a Trieste. . Il personale dell'hotel ha subito chiamato i soccorsi, che hanno portato la Toffa all'ospedale di Cattinara. . Le sue condizioni sono apparse da subito gravi, tanto che è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva con prognosi riservata. . Dopo le prime ore i medici hanno optato per il trasferimento della paziente all'ospedale San Raffaele di Milano. . Al momento le condizioni dell'inviata restano gravi ma stabili. . Il messaggio della redazione delle Iene. . Sul profilo Facebook delle Iene è apparso un post di incoraggiamento per Nadia Toffa. . La nostra Nadia non è stata bene. Ci stiamo tutti prendendo cura di lei. Vi terremo informati hanno scritto gli autori del programma di Italia 1. . È probabile che la puntata di domani, domenica 3 dicembre, non venga mandata in onda. .